Questa è morta! Gli scimmioni invocavano il soccorso di un eroe che avrebbe cambiato le loro sorti. Finalmente arriva Maggio, l'invincibile signore del circolo, forgiato dal fuoco di mille cannoni. La lotta per un Deca. Le serate alcoliche. I momenti svariance. Le piombe furono affrontate con indomito coraggio da colui che solo aveva dato rifugio a molti.